Un evento che non è solo più Torino, sta prendendo la regione, sta prendendo l'Italia, sta prendendo il mondo, è un bellissimo esempio di come sia importante porre l'attenzione sulla corretta e sana attività sportiva. Ovviamente è anche molto importante il tema della prevenzione dei tumori, ci sono veramente tantissimi temi che vengono sostenuti da Just The Woman IEM che adesso è dieci anni ormai che ha preso vita ed è sempre più conosciuto, finalmente sembra che la pandemia ci sia messa un po' alle spalle, quindi si può tornare in piazza e sarà bello avere questo evento e di vedere tante belle facce in Piazza Castello.